Siamo alla parrocchia del Buon Pastore, a San Giovanni Lupatotto, alle porte di Verona e proprio da qui mercoledì mattina inizieranno le dirette dai Grest, dai campi per ragazzi e adolescenti organizzati dalla Pastorale di Verona e dall'Azione Cattolica. Lo faremo per dar voce alle realtà giovani della Chiesa che propongono momenti aggregativi di divertimento e anche di riflessione perché i momenti liberi della scuola che offre l'estate possano diventare occasione di condivisione e crescita nella gioia. Lo faremo sentendo i protagonisti di queste esperienze, quindi a partire dai bambini e dai ragazzi che partecipano naturalmente anche chi gestisce l'organizzazione come gli animatori e i sacerdoti di riferimento e i volontari che rendono possibile queste giornate. Tutto questo a partire da mercoledì 3 Lull, tutti i mercoledì in diretta per un'ora e mezza alle 10, in replica poi la sera alle 20 e 30 e la domenica alle 9. Siamo a metà della nostra esperienza del Grest qui a San Giovanni Lupatotto. Abbiamo iniziato una nuova settimana nel magico mondo di Wunder, un mondo di vichinghi alla ricerca di una bellezza perduta. Allora anche vogliamo vivere questa esperienza con bambini, ragazzi, adolescenti e giovani che hanno dato il loro tempo per vivere questa esperienza. Sono 350 ragazzi circa e 170 animatori più i responsabili, alcuni adulti che ci danno una mano. Viviamo un'esperienza di comunità proprio per riprendere una bellezza che a volte si perde nella vita quotidiana.